Nel carcere di Sollicciano un detenuto ha gettato olio bollente addosso ad un agente di polizia penitenziaria ustionandolo. Era accaduto un episodio analogo la scorsa settimana nel carcere della Dogaia Prato con l'agente che era finito in ospedale con una prognosi di un mese di guarigione. L'aggressione a Sollicciano è avvenuta intorno a mezzogiorno e mezzo di oggi come denunciato dal sindacato OSAP. Secondo quanto ricostruito, un detenuto di origine magrebina per vendicarsi di un altro detenuto connazionale gli ha gettato dell'olio bollente che invece ha colpito un agente che è stato portato al pronto soccorso con ustioni sulla schiena. I sindacati denunciano l'ennesimo episodio di violenza nel carcere fiorentino. Non sarebbe la prima volta che i detenuti impiegano dell'olio bollente per compiere atti aggressivi nei confronti di poliziotti penitenziari.